Finalmente primavera è arrivato. Io per la primavera, per tutte le primavera, per i fiori che si esplodono, che aprono i profumi nell'aria, per me è uno dei periodi più belli dell'anno. Per cui, ragazzi, siamo già a primavera, siamo già con giornate soleggiante, già con fiori che fioriscono. Ma quanti di voi magari avete ancora qualche dopo di Natale in giro all'interno della punta vendita? Ma è importante anche cambiare, rinfrescare l'ambiente per ogni stagione. L'anno in realtà è diviso per quattro, quattro momenti, diciamo, quelli più importanti. So, l'ambiente del Salone deve avere una rivisitazione, un rinfresco minimo quattro volte all'anno, minimo. E per cui, ragazzi, mi raccomando un po' di colore, un po' di fiori, prodotti adatto alla stagione, un menù di servizi adatto a quello che sono dei tempi, dei momenti di questa stagione, no? Le feste di questa stagione, degli appuntamenti di questa stagione. Per cui anche un rinnovo, non solo dell'ambiente, un rinfresco, mettendo un colore pastelli, mettendo un po' di pianti, un po' di fiori, mettendo un po' di prodotti adatti a quelle che siano le esigenze. Ma anche una rivisitazione del menù di servizi per la stagione, offrendo nuove tipologie di applicazioni di colore, dettaglio primaverile, dei concettori per i momenti particolari, adatto per quel momento dell'anno. Queste sono le cose importanti, scusami, importantissimo per il punto di vendita professionale, di buon livello. Di avere sempre i cambiamenti, sempre le innovazioni, sempre essere in stagione.